E' quello che ho detto il primo giorno, di fare vostro il testo, è questo. Cioè ognuno di voi ha un'identità unica, ognuno di voi ha il vostro modo di vivere e di stare al mondo. Appena siete in grado di portare il vostro mondo in quel testo, quel testo lì diventerà qualcosa di nuovo e di unico che gli altri faranno diversamente e che ammette, attirà l'attenzione perché quel personaggio lì diventa attivo, diventa un match. Vai, accelera! Sei una puttana, mi fai schierati, scopo dagli un radello! Ma non faccio scusa! Parmi i cazzo di noi! Ti vuoi me dai cazzia a tutti e tre? Giuro che ti ammasso, guardami nei braccio, ti ammasso! Andando senza mistare, sei il minore! Sei peccato la volta, eh! Affanculo! Grazie per la visione!